ed un bambino che si tuffa dentro a dubbi e la riprendimelo e l'orologio contudo e l'orologio contudo e se gli alunne 10 da quei anni qua Il nome di questa stazione è mezzo cancellato dall'umidità Un poster che qualcuno ha già scarabocchiato dice vieni tu di sì E c'è un nero e tu una cosa e tu che sogni di fuggire via e andare Non c'è un nero e 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 non c'è un nero Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info